Ciao a tutti ed eccoci qui con le ultime quattro sfide. Allora, tre sfide, perdonatemi. Allora c'è Eugenia contro Alin, poi abbiamo Lucia contro Cristina Balsamo e poi Barbara Cremona contro Anna Morea. Vediamo un po' se troveremo un vincitore anche oggi. Allora partiamo da Eugenia con il miliardario. Come i vincenti 12, 43, 36, 28 e 23. Primo numero 27, cominciamo già a lisciare. 31 non c'è, 18 non c'è, 24 c'era il 23. Il 14 non c'è, il 38 neanche, il 35 c'era il 36, l'11 non c'è, il 17 ci manca, 34 no, 29 non c'è, 39 neanche. L'ultimi 3, 25 c'era il 23, 16 non c'è e 20 non c'è, peccato. Quindi Eugenia ha ancora 0 euro. Andiamo un po' all'indimello con il 20 per, i numeri vincenti 30, 19, 31, 32 e 28 per 10. Il 26 non c'è, il 26 non c'è, 18 c'era il 19, 21 non c'è, il 23 c'è il 32 girato, 42 non c'è, l'11 non c'è, 39 ci manca, 34 anche, 14 non c'è. Il 44 non c'è, il 27 c'era il 28, il 12 non c'è, ultimi 3, 43 non c'è, 38 no, l'ultimo il 16. Ancora 0 a 0, passiamo al 20 per per Lucia Cicciotti, ecco 20 per, Lucia Cicciotti, numeri vincenti 40, 46, 11, 31 e 18 di nuovo per 10. 19 non c'è, 42 neanche, 36 neanche, 32 c'era il 31, 13 non c'è, 28 no, 17 sempre il 18, 35 non c'è, 15 ci manca, 38 no, 16 per poco, 39 non c'è, 39 non c'è, 43 neanche, ultimi due, 25 no, e 24 no, anche Lucia 0 euro. Adesso Cristina Balsamo con il miliardario, numeri vincenti 38, 21, 29, 26 e 12. Primo numero 17 e 22 non ci sono, 31 non c'è, 23 non c'è, 46 neanche, 36 no, c'è l'altro 38, 13 c'è il 12, l'11 c'è il 12 e 28 non c'è, c'è il 29. 18 non c'è, 14 neanche, 44 non c'è, 35 neanche, 37 c'è il 38 e il 41 non c'è. Che bei biglietti fortunati eh, ora il 20 per, per Barbara Cremona, terza e l'ultima sfida, 16, 26, 12, 28 e 30 per 10, 41 non c'è, 21 non c'è, 27 c'è il 26 e il 28, bene. 45 non c'è, 45 non c'è, 45 non c'è, 44 neanche, 17 no, 37 neanche, 46 neanche, manco il 43, il 13 c'era il 12, l'11 c'era il 12, 15 c'era il 16, tutti di uno eh, 39 non c'è, l'ultimo è il 29 che non c'è. Bene, passiamo all'ultimo biglietto che è per Anna Morrea, vediamo Anna se almeno tu metti una vincita, numeri vincenti, 12, 23, 22, 16 e 32. 45 e non c'è, 34 non c'è, il 46 non c'è, il 42 manco, seconda colonna è 15, c'era il 16, 30 non c'è, 44 non c'è, 26 neanche, terza colonna è 41, niente, 19, niente, 43 niente, e 37, niente, quindi sono tutti perdenti e continuano le sfide. Ci vediamo un prossimo episodio, ciao a tutti e un bacio a tutte.